Buonasera, benvenuti e per alcuni di voi ben trovati, ben ritrovati, ci fa molto piacere soprattutto in una sera come questa dove sembra che tutto possa succedere tra tuoni, lampi, non so, che le cataratte del cielo si stanno aprendo in questo momento e quindi ancora di più è apprezzata la vostra presenza e speriamo di meritarcela proprio perché pare che nulla vi abbia trattenuto insomma tra lampi, tuoni, fulmini e saette. Allora io do subito inizio alla nostra serata, solitamente noi presentiamo un dialogo per introdurre l'argomento della serata. Questa volta anche grazie a tante testimonianze che dal pubblico e da alcuni di voi ci sono arrivate e che ci avete offerto molto generosamente, adesso verranno riprese e elaborate, interpretate in un senso di polarità sia del femminile che nello specifico del materno e quindi via alle sfumature e ai colori di tutto questo mondo che ci appartiene. In questo particolare caso della serata, in questo particolare tema abbiamo notato tutti che ancora di più c'è un controcanto bellissimo tra le varie sfumature delle molte femminilità e dell'interpretazione delle proprie autentiche e singolari maternità. Quindi lascio ora la parola e l'inizio al dialogo di Amazzone o Penelope come un controcanto della nostra serata. Buon ascolto.